dal 6 aprile del 2023 possiamo trovare nelle sale italiane i tre moschettieri d'artagnan parte 1 film di martin bourboulon che ha già diretto consecutivamente alla prima parte la seconda che uscirà nei mesi a venire e che si intitolerà i tre moschettieri miledi parte 2 come si evince dal titolo ci si rifà al celebre romanzo omonimo di alexandre dumas e devo dire che il regista che non conoscevo abbia scelto appositamente un cast prevalentemente di attori francesi e anche di attori inglesi per rappresentare la controparte quella che nel film è composta dai protestanti inglesi sono andato in sala luci cinemas di bicocca a vedere questo film con l'obiettivo innanzitutto di divertirmi perché seppur non sia un esperto di film di cappa e di spada a cavallereschi insomma sono cresciuto e ho sempre amato zorro talvolta ci sono state anche delle puntate nelle serie televisive dedicate al celebre spadaccino in cui proprio don diego della vega si incontrava con i tre moschettieri uscì anche il film zorro e i tre moschettieri che era praticamente quasi inguardabile però ce l'ho in collezione per completezza fatto sta che vedendo il trailer nonostante non sia il mio genere di riferimento sia un po acerbo sotto questo punto di vista ho pensato quanto un racconto di questo tipo potesse farmi un attimo ripensare a quello zorro che vorrei tanto rivedere su grande schermo ma che purtroppo si fa attendere quindi sono andato di martedì pomeriggio in sala non eravamo molti circa 6 7 persone e seppur a livello di sceneggiatura abbia trovato un film che volesse raccontare un qualcosa di interessante se pensiamo anche agli intrighi politici questa lotta fra cattolicesimo e protestantesimo il re luigi tredicesimo che pensa a tutto tranne che a questa guerra imminente il cardinale richelieu che invece vuole sconfiggere i moschettieri grazie anche al suo braccio destro cioè miledi interpretata da eva green e quindi invece lui vuole andare incontro ad una guerra contro l'inghilterra dall'altro lato i moschettieri che devono quindi subire le angherie del cardinale di miledi e cercare di salvarsi la vita dall'altro lato abbiamo un d'artagnan che come ben saprete dovrebbe essere il quarto moschettiere che tenterà a tutti i costi di farsi notare dal re luigi tredicesimo interpretato da lui garrel ma soprattutto dagli altri tre moschettieri ormai devoti al re di francia e quindi atos portos e aramis la trama nel complesso è anche studiata in maniera vincente con delle situazioni anche proprio a livello di complotto e di intrighi interessanti solo che ciò che proprio mi ha lasciato interdetto durante la visione dei tre moschettieri d'artagnan è stata la messa in scena perché da un film del genere ci si può aspettare oltre ad inseguimenti rocamboleschi scene di azione degne di nota anche un grande coinvolgimento da parte del pubblico nel vedere queste scene che vi ho appena descritto ed invece no sarà che martin burbulon a tutti i costi vuole utilizzare il piano sequenza al 99 per cento in ogni scena d'azione questa cosa per me ha creato solo confusione perché capisco che non sia facile in un'unica sequenza proprio mostrarci l'intero combattimento e che quindi anche gli attori abbiano dovuto fare un gran lavoro per prepararsi alle coreografie in questione però se poi lo spettatore non riesce bene a contemplare cosa stia accadendo sullo schermo c'è un problema io ogni volta avevo quasi il giramento di testa perché questa macchina da presa che cerca di star dietro a tutte le coreografie che cerca di star dietro a tutte le situazioni di avventura che il film vorrebbe mostrare fa un po un effetto estraniante per un pubblico che è quasi in difficoltà a capire cosa stia avvenendo avrei preferito una regia classica semplice ma efficace con dei non lo campi e contro campi primo piano del personaggio che sta combattendo un qualcosa di normale di classico come abbiamo visto in tanti altri film non è che il piano sequenza dia sempre quella marcia in più come a dire hai visto che bravo fatto tutto in un'unica sequenza non è così specialmente in un film forte di un film come i tre moschettieri almeno a me non si riesce a veicolare niente le scene d'azione sono quasi inesistenti per quel che mi riguarda perché ogni volta che vediamo un combattimento di cappa e di spada non riuscivo bene a comprendere da dove partisse il colpo dove terminasse non riuscivo bene a comprendere le dinamiche dei fatti eppure di scene in cui la tensione dovrebbe salire ce ne sono però come il film non c'è riuscito così come non mi è piaciuto nemmeno il fatto che seppur la pellicola si chiami d'artagnan e quindi già si sapeva che si sarebbe incentrata esclusivamente su di lui non mi è piaciuto il fatto che gli altri moschettieri siano così poco carismatici a parte atos devo dire che atos interpretato da vincent cassel sia stato l'unico personaggio degno di nota dell'intero film quando sono uscito dalla sala avevo in mente lui non d'artagnan per dirvi eppure si sceglie un cast di attori francesi l'ho già detto è un film che ha molta cura anche nella scelta del casting francois civil che interpreta char d'artagnan lascia un po il tempo che trova è più il belloccio di turno che a tutti i costi vuole far vedere quanto sia bravo per farsi accettare nel gruppo però sì di lui minimamente ce ne ricordiamo perché il film si intitola d'artagnan dovrebbe essere incentrato su di lui e quindi esci dalla sala e di lui minimamente te ne ricordi ma se io penso ad aramis a portos io a distanza di un giorno da quando l'ho visto al cinema già fatico a ricordarmi i volti dei personaggi di questi due personaggi aramis è interpretato da romanduri e portos da pio marmei e io sinceramente non ricordo il volto né dell'uno né dell'altro mi è dispiaciuto che non ci sia stata una maggiore caratterizzazione dei personaggi voi mi potreste dire paolo ma il film si chiama d'artagnan quindi potevi aspettarti che gli altri moschettieri fossero magari relegati sullo sfondo ed infatti non è un problema questo solo che siccome me li mostri perché non è che per tutto il film non esistano tu me li mostri allora fai sì che si fai sì che risultino un minimo caratterizzati perché a parte atos per me il film si sarebbe dovuto chiamare i tre moschettieri atos a parte atos che ruba la scena a d'artagnan grazie anche ad un'interpretazione degna di nota di un bravissimo vincent cassel gli altri sembrano più pedine da utilizzare in maniera pretestuosa sol perché si sta parlando dei tre moschettieri ed è triste pensare che ci si rifaccia i tre moschettieri di diuma ok che tutti vuoi soffermare più su un personaggio rispetto che sugli altri ma non farmeli vedere così in maniera superficiale l'avete con con atos scusatemi avete gestito il suo personaggio in maniera convincente perché con gli altri no quindi questo è un altro difetto di un film che anche fotograficamente la fotografia di nicolas bulduk proprio bulduk proprio l'ho trovata di un mediocre incredibile questo quasi effetto tiepido dove non c'è troppo colore ma allo stesso tempo non c'è nemmeno troppa cupezza è una via di mezzo che in tutti i film a me infastidisce quando trovo questo tipo di fotografia che sembra quasi che non si sbilanci né da un lato né dall'altro non è né troppo luminosa né una fotografia troppo scura resta in superficie questa fotografia qua mi annoia ma soprattutto non riesce a colpirmi non riesce a rendere iconiche anche le sequenze più dignitose del film la fotografia deve avere un forte impatto su sul pubblico sugli occhi del pubblico perché attraverso la fotografia tu imprimi su schermo tutte le sequenze più importanti di un'opera ed invece no è quell'effetto caffellatte io lo chiamerei così il color caffellatte la fotografia dei tre moschettieri che non lascia niente è un film poi che dà proprio la sensazione di vecchio di un'uscita fuori tempo massimo mi dispiace perché con i tre moschettieri si poteva portare avanti anche un qualcosa di duraturo uscirà la seconda parte miledi poi chissà magari vorranno proseguire la saga dedicandosi ad altri personaggi io vedrò miledi però effettivamente la voglia non ce l'ho se minimamente ce l'avevo prima di andare in sala adesso mi è passata e suppongo che da qui a quando uscirà il film mi sarò già dimenticato una trama ripeto interessante ma che non è coadiuvata da una regia all'altezza da una fotografia iconica ma anche da proprio una messa in scena che mi potesse allo stesso tempo coinvolgere ma anche tenere intenzione le scene di azione proprio non mi han convinto mai una volta quindi ci sono anche un po delle assurdità perché se vedeste la scena a metà dei titoli di coda capireste che ci dovranno spiegare come una determinata cosa possa essere possibile è vero che già pensando al titolo del secondo film potevamo ipotizzarla ma una spiegazione la gradirei poi cosa posso dire prima di passare alla parte spoiler sì che il film termina proprio con il colpo di scena che ci rimanda all'uscita del prossimo ora questo ve lo rivelo il leggere continua sullo schermo del cinema non è che proprio mi abbia convinto capisco portare la serialità al cinema sono il primo a difendere l'mcu però nemmeno lì vediamo scritto continua al massimo dopo i titoli di coda gli avengers torneranno e lì ci sta anche qua avrei preferito un qualcosa di simile piuttosto che un continua su schermo copiando la dinamica esatta di una puntata di una serie televisiva siccome non è una puntata di una serie televisiva ma è un film metti da parte il concetto di serie tv se vuoi porta su grande schermo la serialità non c'è problemi in questo per me non ci sono problemi però un conto è applicare al cinema l'espediente della serialità come è stato fatto con l'mcu come viene fatto con il dc extended universe o quel che ne resta un conto è copiare la stessa precisa dinamica e quindi se in una puntata tu puoi mettere nella 3x01 continua perché poi uscirà la 3x02 la settimana dopo al cinema è brutto leggere continua cioè nel senso lo so che continua me lo lasci a metà ma questo è cinema è un medium è un medium diverso quindi siccome si sta parlando di un'altra forma d'arte non importa che tu debba esplicitarmi continua lo so ho visto quel che è successo in una serie lo posso comprendere perché tu sei in una non lo so puntata di un finale di stagione qualsiasi e mi ci scrivi continua sono espedienti da serie comunque nulla la regia anche fin troppo televisiva forse i tre moschettieri d'artagnan poteva essere una serie una serie netflix una serie su prime video ma cinematograficamente parlando non ci siamo eva green nei panni di milady fa il suo lavoro però nel complesso è proprio un film che non mi ha lasciato niente che non mi è piaciuto e peccato perché avevo intenzione di divertirmi avevo intenzione di abbracciare un nuovo franchise ma per ora ho abbracciato solo la mia noia in sala perché seppur duri solo due ore essa si è fatta viva quindi ragazzi io vi saluto vi abbraccio passerò ad una minima parte spoiler ma senza dirvi troppo perché comunque già in questa parte generale ho già detto tante cose al riguardo e vi esorto ad ascoltarmi nel caso aveste visto il film al cinema comunque al box office non sta nemmeno andando troppo male specialmente in francia ha avuto anche un discreto successo e quindi ricordandovi di abbonarvi al canale di seguirmi sulle mie pagine social e che ogni link sia qua sotto nella sezione info adesso proseguirò con qualche rivelazione dunque a me ripeto la trama tutto sommato ha saputo anche convincermi questi giochi di potere questi intrighi il fatto che non ci si possa fidare di nessuno un luigi tredicesimo che pensa più a capire se la regina sua moglie lo stia tradendo con il re d'inghilterra piuttosto che ad una guerra imminente che potrebbe da lì a poco nascere con gli inglesi protestanti un cardinale riscelier che invece agisce nell'ombra con la sua miledi cioè se ci fosse stato un regista capace dietro poteva venire fuori un qualcosa di decisamente interessante accattivante e degno di nota questo per me non accade perché la regia è mediocre ogni volta che anche ci si trovava di fronte a scene d'azione io faticavo a comprendere cosa stesse accadendo l'unica scena che mi ha fatto dire ma sì dai questa si lascia guardare l'inseguimento a cavallo fra d'artagnano e miledi quella scena lì sì ma capirete è una panoramica dall'alto con loro che galoppano poi ad un certo punto lei si lascia cadere giù dal precipizio io ho detto stai a vedere che non è morta perché sapevo che il secondo film si sarebbe intitolato i tre moschettieri miledi parte 2 quindi come faceva essere morta la rivediamo nella scena a metà dei titoli di coda ma ci dovranno spiegare come sia riuscita a salvarsi anche il finale in cui constance la ragazza di cui si innamora il nostro d'artagnan con quest'amore ricambiato anche il finale in cui lei sente che all'interno della casata insomma ci siano delle spie delle persone che stanno facendo il possibile per far cadere luigi tredicesimo quindi con simpatie con simpatie protestanti dopo che il re ha rischiato di morire al matrimonio del fratello no perché i protestanti lo cercano di farlo fuori constance ascolta scappa e viene rapita d'artagnan la insegue viene colpito e cade a terra però quel continua non si può vedere ripeto va bene la serialità al cinema va bene quindi creare dei film che continuino nell'arco del tempo andando incontro ad una saga longeva va benissimo però porca miseria imparate da chi la serialità al cinema ha saputo contestualizzarla imparate dall mcu quel continua lì non si può effettivamente guardare ma cos'è continua ma mica sto guardando ripeto la 3x06 di un finale di stagione di xi esai io sto guardando un film continuo ma è una cosa bruttissima e poi ripeto questa fotografia un po che non si capisce se sia più calda più fredda più chiara più scura è proprio la fotografia standard per gli incapaci a mio parere quindi non lo so mi dispiace perché avrei voluto appassionarmi avrei voluto coinvolgermi ma così non è stato quindi questo è il mio parere a riguardo avevo detto che non avrei parlato tanto perché quel che c'era da dire ve l'ho detto noi ci vediamo ad una prossima recensione magari a qualcuno di voi il film è piaciuto quindi fatemelo sapere nella sezione commenti vi abbraccio e a presto ciao ciao